Renzi, Madia e Padoan, rispettivamente presidente del Consiglio, ministro della pubblica amministrazione e ministro dell'economia e delle finanze, stanno distruggendo lo Stato sociale e i servizi garantiti dalla Costituzione. E' questa l'accusa mossa dall'Unione Sindacale di Base, che questa mattina ha protestato a Pescara sul Ponte del Mare contro la riforma della pubblica amministrazione in itinere. La riforma è stata definita falsa perché, secondo il sindacato, la linea seguita dal governo Renzi non è distante da quella impostata dalla troica europea e seguita dai precedenti governi tecnici e politici. Per questo la riforma è una maschera, secondo l'USB. Serve a tagliare i servizi e non gli sprechi e non riduce i fenomeni di corruzione. Loro vogliono fare la riforma del pubblico impiego, delle pubbliche amministrazioni, dicendo che c'è uno spreco sia di lavoratori che di denaro. Può darsi che effettivamente nelle pubbliche amministrazioni ci sia una cattiva organizzazione del lavoro, ma di spreco di denaro non credo che sia opportuno. E' davanti agli occhi di tutti il vero spreco. Sono le tangenti del MOSE, sono le tangenti dell'Expo di Milano. Se loro vogliono portare avanti una vera riforma, devono invece investire di più nel pubblico impiego. Ricordo che se è possibile fare una lotta contro chi non paga le tasse, il controllo lo fanno dipendenti del pubblico impiego. E la sanità, così come la scuola e tutti i servizi che vengono offerti al cittadino, vengono offerti grazie ai dipendenti del pubblico impiego.